Ben lunghe, ben aperte le mani, ok? Sotto le spalle, schiena bianca, non abbiamo nemmeno la cavallonare rilassata, nemmeno insomma, ci vuole, ci vuole, ci vuole. Siamo esattamente a metà, con lo pelicolo della colonna. Da qua, o puntati o con il collo del piede, quello che volete. Andiamo a staccare una napa sola, stringiamo e fuori l'aria. Sempre la stessa, eh? Inspiro e fuori l'aria. Devo sapere bene, tutta la gamba e il ginocchio che si spige verso l'alto, ci siamo? Il piede non si stacca, no no, si stacca, vai, guarda bene. Inspiro e giù, no, faccio cose strane con le ginocchia, ok? Sono dritte, non si deve vedere niente, è solo l'ancla e il bacino che va a lavorare. Ci siamo? Forza. ora, otto con la gamba, espiro, spigo verso l'alto ed espiro e con la gamba.